Diffida al comune di Sulmona per il cambio di gestione al canile comunale di Noce Mattei, il cambio di guinzaglio, verrebbe da dire, a presentarla questa mattina a margine di una protesta posta in essere negli uffici di Palazzo San Francesco, è stata la Lida di Sulmona che a partire da domani dovrà lasciare il canile gestito ad aprile 2022, dove avrà raccolto il testimone da Lida Ortona che lo ha gestito dal 2019.